Ciao da Svideo! Volevo comunicarvi l'esistenza di questo mio nuovo sito che ho pubblicato sito dedicato ai miei due canali YouTube Svideo Game e Svideo Game 74 e niente, praticamente qua la gente potrà vedere un assaggio di quello che faccio e quindi ho diviso e organizzato diverse pagine poi pensando che magari più avanti lo amplierò qua vedete nella home page, spiego un po' il perché ho creato questo sito e qua trovate già i miei social il link per andare su Telegram, su YouTube, su Facebook e su Instagram qua in alto se uno va in canzoni può per esempio trovare, vedete, fammi volare via The Mastering Games, Videogame, che è poi la mia sigla, la mia intro, no? qua la trovate per intero qua c'è Mia, Ritorna, I Can See The Life, Facciamola Pace, I Tuoi Occhi, What You Do To Me, Everyone Has Got Something To I Tu sei il mio cielo immenso, non sei più qui, Never Back Down insomma una parte delle mie canzoni che creo, sapete, qualcuno in italiano, qualcuno in inglese qualcuna più riflessiva e intelligente, qualcuna decisamente più divertente e stupida Ciao Story, ci tenevo molto la prima Ciao Story a farla vedere tutta così in una pagina organizzata con tutti i 17 video che magari uno dice voglio gustarmi tutto Ciao Story posso partire anche da qui come se fosse una playlist e spiego già all'inizio che cos'è Ciao Story perché penso sia una delle cose più carine che ho creato sui miei canali come Story e quindi la prima Ciao Story secondo me ho fatto qualcosa di decente, ecco diciamo non dovrei essere io a dirlo ma poi con alcuni gameplay ho messo lì qualche gameplay e dopo ovvio sui miei canali ce ne sono migliaia a migliaia quindi comunque Life is Strange Before the Storm, Life is Strange, Dishonored 2 Black Oats 2, Ghost Simulator, South Park, Never Alone, Inside, Limbo, Rust, What Remains of Eddie Finch, Rocket League qua non ho messo unicamente delle cose molto molto più recenti che magari trovate sui miei canali però io penso che alcune serie un Chisima e Niciuna, Never Alone, un Inside, un Limbo siano dei capolavori di serie magari per uno che non l'ha ancora mai visto come è anche molto riflessivo e intelligente War Remains of Eddie Finch non parliamo poi dei Life is Strange che sapete che li amo comunque ho messo solo qualche qualche finestrella così per arrivare a qualche mio video dopo se uno vuole si può gustare tutta la serie che ho fatto per intero o i video sparsi dedicate a qualche gioco in informazioni invece chi sono, cosa faccio e anche qui si ripetono i links delle varie cose e poi vuoi mandarmi un'email se qualcuno vuole mandarmi un'email su Mondo Animalo qua ci sono vedete dalla prima puntata i serpenti velenosi i gatti i boxer panda i ragni velenosi i tartarughe i ornitorinco i medus i ragni giganti i orsi i cavalli i renne i pipistrelli il riccio e gli errori dei ornitorinchi poi dopo ragazzi più avanti riprenderà anche questa serie di Mondo Animalo perché mi piace molto farla ma ci vuole richiede molto tempo è complesso per me da gestire però sicuramente più avanti ritornerà Mondo Animalo e niente andiamo avanti qua foto raduni ed amici vedete qua c'è a Bologna quando abbiamo fatto l'incontro dei Two Brothers a maggio 2015 poi invece a luglio 2015 qua a Milano con tanta bella gente anche qua questi qua sono ricordi bellissimi qua a Torino invece qua il raduno di Boldro qua il raduno di Firenze dove ho conosciuto RoboJoker per tante altre gente che ci tenevo a conoscere qua invece c'è un slideshow di foto dedicato a Milano del 7 agosto 2016 perché mi piaceva oltre che come slideshow di foto per le cose che dicevo in quel video che trovo ancora molto giuste e valide e riascoltarle mi niente niente comunque mette un po' di nostalgia per alcune cose c'è penso sia anche un bel video ecco di ciò allora sì questa è una foto di un raduno 2017 più recente dove c'è la Giuggiola la Marcolino c'è Mitch insomma e qua ho messo qualche foto sparsa con il portale di Chris RoboJoker Leonardo Vannucci Reggio qua c'è Francio di quelli del carrello qua c'è Malicio Schett e Edoardo qua c'è la Giuggiola Roby Pastore sul web Yoshi Alceo Lucio Chris ancora Malicio se Roby qualche fa una linguaccia Torino con Jackie 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 del 97 qua c'è Checco non lo sono andato a trovare a Napoli qua con i due neuroni RoboJoker Mauricio Schett qua c'è Federico 88 Gamer Claudio Maiorino lo devo ancora andare a incontrare dal vivo ma spero di riuscire a organizzarmi presto qua c'è Mitch Reggio Marco Lino qua c'è Wes di Los Amigos qua c'è The Player 96 insomma le storie siamo andati al Games Week cose varie festa dell'unicorno c'è anche Bryce qua insomma ragazzi ci sono diverse foto una fotogalleria se qualcuno dice ma io non voglio che resti la mia foto nel sito me lo comunica io la tolgo ma bene o male erano foto che avevano già caricato dentro i video raduni di Youtube che avevo già chiesto il permesso alle persone quindi penso che di non però se davvero se c'è qualcuno che dice ma preferisco che tu la tolga me lo dite che la tolgo che la tolgo e qua invece in fan art qua vediamo le fan art che hanno realizzato per me per esempio qua da William Baylor qua da Raxnos che c'è bianco e nero poi l'ha fatta anche a colori Davide Bebbo quel cubo sul tubo e insomma e poi se qualcuno ne vuole fare delle altre per me io mi fa sempre molto piacere lo so che non dovrei non dovrei essere io a chiederle perché non bisogna chiederle uno dovrebbe farla di sua spontanea volontà però se qualcuno mi vuole fare qualche fan art e carina la apprezzo molto allora poi niente io direi che sì vi ho detto un po' tutto quello che dovevo dire vi ho ricordato anche che ci sono i social qua in fondo canzoni cia storia alcuni gameplay informazioni mondo animale fotoraduni fan art e se cliccate qua ritornate alla home alla pagina iniziale e poi magari più avanti lo amplierò con racconti con altre cose aggiungerò altre foto aggiungerò insomma se io dato che l'ho creato ci tenevo a dirlo anche qui su youtube giustamente giustamente stavo dicendo vabbè dai ciao ragazzi ciao das video ah il link l'ho trovato in descrizione a parte che si legge anche qua ciao das video ciao Grazie.